Piazza Salotto Gremita a Pescara per il concerto di Raff, l'amministrazione comunale ha scelto quest'anno una data inusuale per festeggiare l'inizio del 2010, il 2 gennaio anziché il tradizionale 31 dicembre e l'artista pugliese non ha tradito le aspettative presentando tutti i brani più noti del suo repertorio, da due a Battito Animale, Ossigeno e tante altre canzoni ancora. Vi proponiamo alcuni estratti di questo concerto. Ciao Pescara! Dove sei? Come stai? Cambierò se cambierai? Due perché siamo noi, due lottatori, due relugi, due canzoni d'amore, comunque io e te, alle manifestazioni dell' Hunger. Come stai? Dependen. Due quando spessi? Dependen. Come stai? E quindi senti? E quindiamoto Locale a Pido avanti un passo dopo l'altro, sempre in contatto, stretto, per tutto il grande amore. Se hai amato l'amore, non è mai un impagno, era bello sentirti e tenerti vicino, anche sull'autore, di un spazio di un mattino, ti muordo per tutti e una volta, non è mai fare via, non è mai un caso senza senso, senza soli, come un messo, vuoto che c'è, la vita cos'è? Agni steri non ci sarà, rendersione per i nostri peccati, e la faccia è, perché parlo intorno a stare, quell'istinto naturale che c'è, sì, è un problema. Le mani! Il tempo! Buon anno! Buon anno! Buon anno! Buon anno! Grazie.